Grave lutto colpisce l'Italia, è morta inaspettatamente la piccola. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora lascia che ti racconti una notizia che ha colpito il cuore di Chiara Ferragni e Fedez nelle ultime ore. Si tratta di una storia davvero tragica che li ha portati ad affrontare un dolore insopportabile. Questa tristezza è stata causata dalla prematura scomparsa di una giovane ragazza che era riuscita a entrare profondamente nel loro cuore. Avevamo tutti sperato in un epilogo diverso, ma purtroppo il destino ha deciso diversamente, portando via questa giovane vita. Questa coraggiosa giovane ha combattuto strenuamente contro una malattia, ma alla fine, il 30 novembre, ha dovuto arrendersi. Il suo cuore ha smesso di battere, lasciando molte persone a cui teneva devastate da questa dolorosa perdita. Chiara Ferragni e Fedez, senza dubbio, condividono la stessa tristezza e incredulità di fronte a un lutto così devastante. Chiara Ferragni e Fedez avevano avuto l'opportunità di incontrare questa ragazza tempo fa, offrendole tutto il loro sostegno. Ora, purtroppo, si trovano a fare i conti con la triste realtà della sua scomparsa. La ragazza aveva soli 14 anni ed era stata colpita da un tumore al pancreas, una lotta che aveva iniziato 4 anni fa ma alla quale ora ha dovuto arrendersi. Azzurra Marotta aveva solo 14 anni ed era originaria di Maser, un comune in provincia di Treviso. In questo momento difficile, persino il sindaco del suo paese natale ha voluto rendere omaggio a questa giovane anima.